Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Terzo, azioni UE più rapide. Quarto, prontezza a scossoni Nato, e poi mi spiegherò meglio. Quinto punto per l'Italia, ritorno degli investimenti. Allora, punto numero uno, accelerazione, fluidità e imprevedibilità di tensioni e di crisi. Dunque, che il quadro strategico sia più incerto e più instabile è ribadito in diversi documenti Nato, UE e italiani e quindi lo considero un dato acquisito. Però partendo da questo dato vorrei sottolineare che è aumentato il tasso di imprevedibilità, il tasso di accelerazione delle tensioni e delle crisi, che possono prendere diverse direzioni in modo molto fluido e quindi spiazzare e sorprendere. Quindi, l'attacco di Hamas il 7 ottobre ha sorpreso Israele, la portata e la reazione israeliana ha sorpreso gli Stati Uniti e i conseguenti attacchi UTI hanno sorpreso la comunità internazionale, per cui a valle si è reagito con Prosperity Guardian e con Aspides, su cui è partecipato l'Italia. Quindi, il quadro è ben peggiore del 2016, quando l'Italia ha normato con la legge 145 il procedimento di autorizzazione delle emissioni e questo è un motivo a favore di un aggiustamento, un adeguamento, per rendere l'Italia in grado di rispondere in modo più efficace all'imprevedibilità e alla fluidità di tensioni e crisi. Quindi, nel DDL, l'articolo 1, che introduce una maggiore flessibilità nell'uso degli assetti e dell'unità di personale all'interno di missioni nella stessa area geografica, va in questa direzione, perché un domani potrebbe avvenire tra le missioni italiane in Kosovo e in Bosnia, tra le varie presenze italiane sul fianco orientale della Nato, nel Sahel, dove l'Italia ha diverse missioni, piuttosto che in Iraq, dove c'è la missione italiana e quella Nato a cui partecipa l'Italia. Secondo punto, il bilateralismo crescente nel Mediterraneo allargato. L'Italia, già da diversi anni, ormai ha sviluppato una visione originale e coerente dello spazio geopolitico nel Mediterraneo allargato, quindi Europa continentale, Sahel, Corno d'Africa, Nord Africa e Medio Oriente, che è uno spazio eterogeneo, complesso, dove però le interconnessioni demografiche di sicurezza energetiche e economiche fanno sì che le crisi locali abbiano impatti regionali. Il Ministero della Difesa, già nel 2022, con la strategia di sicurezza e difesa per il Mediterraneo allargato, tratteggiava questo quadro. Ecco, se guardiamo alla mappa delle missioni italiane all'estero, questa è l'area prioritaria per l'intervento delle forze armate italiane, a proiezione degli interessi nazionali. Ma a differenza dell'area atlantica, che è tutta ricompresa nella Nato, quindi un unico ombrello di sicurezza, nel Mediterraneo allargato non c'è una cornice regionale forte. Non lo è la Lega Araba, non lo è l'Unione Africana e sia lui che la Nato sono percepiti come attori esterni e sono attori esterni alla regione. Quindi questa regione è il regno del bilateralismo, delle alleanze a geometria variabile e dei cambi di allineamento. Basti pensare che poco prima del 7 ottobre del 2023 diversi stati arabi stavano avviando una partnership con Israele. Perché riprendo questo? Perché l'Italia ha giustamente, secondo me, aumentato il numero, la consistenza e il livello di ambizione delle missioni nazionali, di quelle bilaterali. In Libano, in Libia, in Niger, in Somalia. Ma gestire una missione bilaterale fuori dal quadro ONU, fuori dall'UE, fuori dalla Nato, mette solo sulle spalle dell'Italia la responsabilità politica e militare della missione. E quindi questa responsabilità richiede un approccio mirato rispetto ai partner e la flessibilità, da parte italiana, di far evolvere la missione in termini qualitativi e quantitativi. E di passare le parole fatte in modo molto tempestivo, proprio per non perdere la credibilità col paese partner, che non è garantita da una cornice istituzionale più ampia. E quindi, diciamo, un secondo motivo a favore di un aggiustamento del processo di autorizzazione, che lo renda un po' più snello e rapido. Punto 3. Opportunità e necessità di azioni europee rapide e incisive. Dunque, ho sottolineato il bilateralismo, a questo, diciamo, non contraddice il fatto, non è in contraddizione il fatto, che l'Unione Europea può e deve giocare un ruolo più incisivo per la sicurezza e stabilità del Mediterraneo allargato. Anche perché, onestamente, secondo me la Nato è totalmente concentrata sulla minaccia russa, a est, e non ci sono le condizioni politico-militari per un impegno Nato significativo sul fianco sud. A parte il proseguimento delle missioni, diciamo, avviate da diversi anni, come quella in Kosovo, o si guardia nel Mediterraneo. E la crisi in Mar Rosso è un esempio lampante. Attacchi UTI, reazione statunitense con Prosperity Guardian, reazione UE con Aspides, no reazione Nato. La reazione UE con Aspides, diciamo, possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Se lo vediamo mezzo vuoto, l'Unione Europea ha impiegato due mesi a reagire, gli Stati Uniti due settimane. Se vediamo il bicchiere mezzo pieno, l'Unione Europea ha reagito in modo più veloce rispetto a molte altre missioni del passato, superando, peraltro, il veto spagnolo. E' anche per meritorio spinto dell'Italia per lanciare questa missione. Quindi l'Unione Europea, in questo caso, ha accelerato. E l'Italia, onestamente, ha un po' faticato a tenere il passo dell'UE quanto a processo decisionale interno, in quelle settimane tra febbraio e marzo, e dialogo tra governo e Parlamento, sull'adesione ad Aspides. Quindi anche questo, diciamo, episodio è, secondo me, un campanello allarme sul fatto che l'approccio italiano alle missioni all'estero va adeguato per rendere questo dialogo governo-parlamento più tempestivo, anche per esercitare una leadership nell'Unione Europea rispetto alle missioni all'estero. Una leadership che, secondo me, è sempre più importante e urgente da parte italiana. Punto numero 4. Accennavo prima alla prontezza dell'Italia come sistema paese a dei repentini scossoni in ambito Nato. Ora, qui è un po' più un campo minato perché cerco di affrontare lo scenario tanto probabile, quanto dirompente, di una nuova presidenza Trump tra pochi mesi. Mi domando, e se l'amministrazione Trump ritirasse drasticamente e totalmente i 600 militari statunitensi che ora sono in Kosovo nella missione K4? E se ritirasse di nuovo in modo drastico e repentino le migliaia di truppe sul fianco est, ad esempio in Polonia? Come reagirebbe l'Italia a questi scossoni in ambito Nato? Penso che gli alleati europei, Italia inclusa, sarebbero nella condizione di dover colmare il vuoto lasciato agli Stati Uniti al meglio possibile e al più presto possibile per mantenere quella deterrenza nei confronti della Russia e nel caso del Kosovo quella stabilità regionale che, insomma, ha garantito pace al continente europeo per 75 anni. Quindi anche in questo senso il disegno di legge è un passo piccolo ma nella giusta direzione. Perché ad esempio l'articolo 2 consente di preindividuare delle forze ad alta ed altissima prontezza operativa da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza. E questo dà appunto più reattività, più tempestività all'Italia nel caso di uno scenario come quello che ho accennato. Fermo restando, dal comma 2.1 del disegno di legge, che anche nell'impiego, nell'ipotesi di impiego, in via di urgenza, di forze ad alta ed altissima prontezza operativa, la deliberazione del governo venga trasmessa alle Camere che entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione. Quindi il termine è più stringente, cinque giorni, ma c'è un termine e quindi diciamo si dà un meccanismo di flessibilità per dispiegare forze ad alta prontezza operativa passando per il Parlamento. Quinto ed ultimo punto, e quindi concludo, credibilità, efficacia e ritorno degli investimenti, se mi passate una metafora economica. Quindi, al di là dello scenario della presenza Trump, al di là del ruolo dell'Italia e dell'Europa della difesa, al di là del bilateralismo nel Mediterraneo e dell'accelerazione delle tensioni e crisi, quindi al di là dei quattro punti che ho detto finora, c'è un dato strutturale, che però è sempre più importante. Dall'89 a oggi, quindi 35 anni, l'Italia ha partecipato a un totale di oltre 135 missioni all'estero, 135, di cui oggi 36 in corso. Sapete, meglio di me, il decreto missioni 2024 prevede 12.000 unità di personale massimo, circa 7.900 in media, con un organico e leggera crescita rispetto al 2023, in linea con un impegno italiano ormai interinternale, e che è stato sostenuto finora da un consenso molto ampio in Parlamento. Le risorse economiche investite in tale missione, il 2024, ammontano a un miliardo e mezzo. Se consideriamo questi numeri, su questo arco di tempo, emerge che le missioni militari all'estero sono uno strumento fondamentale alla politica di difesa, sono importanti per la politica estera, o molto importanti per la politica estera, e in generale per la proiezione esterna del Paese. Quindi in termini politici è un investimento, è un investimento militare, economico, e soprattutto di rischio per il personale in divisa. Un investimento che genera un certo ritorno per gli interessi nazionali, poi possiamo discutere quanto e come è stato un ritorno per gli interessi nazionali da diverse missioni, ma in media c'è. E allora più questo investimento è credibile, è efficace, è maggiore il ritorno. Se il processo decisionale non è abbastanza tempestivo, flessibile ed efficiente, l'investimento ha un ritorno minore. Ad esempio, la semplificazione della procedura per la ripartizione delle risorse tra le varie missioni all'estero, che è proposta dal DDL, serve a rendere più snello il processo di assegnazione dei fondi alle singole missioni. Perché negli anni scorsi spesso questi fondi arrivavano in ritardo, operando in un regime di proroga che creava problemi non indifferenti in termini di operatività. E quindi anche questo tassello comporta uno sforzo secondo me generale che dovrebbe essere quello di migliorare, adottare e rafforzare l'approccio italiano alle missioni all'estero. Perché è qualcosa che è necessario per le missioni stesse, in primis, e in generale per il sistema paese nel quadro internazionale. Vi ringrazio per l'attenzione e restate a disposizione per domande. Grazie dottor Marrone, io allora procederei così se siete d'accordo. Darei la parola al dottor Batacchi e poi procediamo con le domande. O volete che ci interromi? Facciamo così. Dottor Batacchi a lei la parola. Grazie Presidente, grazie per l'invito, grazie per la vostra presenza. Io ripartirei dalle ultime parole, ultime considerazioni del dottor Marrone. A un certo punto parlerò anche del disegno di legge, dirò due o tre cose, però comunque tante cose non ci sono da dire onestamente su questo disegno di legge. Vorrei fare un discorso un po' più generale sulle missioni internazionali. E appunto ripartirei da quello che diceva il dottor Marrone prima. Noi oggi siamo, o noi Italia, siamo uno dei principali erogatori di sicurezza internazionale del mondo, del pianeta. Lo dicono i numeri, lo dicono la storia di questi trent'anni. Noi siamo, mi sono appuntato due cose. Il primo contribuente delle missioni ONU in Occidente, il secondo in ambito Nato, un contribuente di prima fascia dell'Unione Europea e così via. Però secondo me dove abbiamo un po' zoppicato è sulla risposta alla domanda. A cosa servono le missioni internazionali? Ora il dottor Marrone prima ha bozzato un po' di cose e io vorrei provare a svilupparle. Ecco, innanzitutto le missioni internazionali, si è detto tante volte, sono uno strumento della nostra politica estera, della nostra politica di difesa. E questo cosa vuol dire, tradotto in termini empirici? Prima di tutto significa che comunque le missioni internazionali è il contributo che noi diamo alla credibilità stessa della nostra diplomazia, della nostra politica estera. È uno strumento comunque di influenza che ci consente di stringere partnership, di modellare con parti di difesa e sicurezza di paesi partner, sostanzialmente che comunque stanno fuori in gran parte dal nostro perimetro di alleanze. E poi comunque in teoria dovrebbero anche servire a tutelare l'interesse nazionale. E io credo che su questo si debba e si possa fare una riflessione e vi ringrazio di avermi invitato qui perché questa occasione mi dà anche l'opportunità di confrontarmi con voi signori senatori su che cos'è fondamentalmente l'interesse nazionale e che cos'è l'interesse nazionale italiano, come si misura. È un interesse nazionale, è frutto di una preferenza politica, di una leadership. Quando c'è al governo il centro-destra viene declinato in un modo e quando c'è invece il centro-sinistra viene declinato in un altro. Non è così, a mio avviso, o quantomeno non dovrebbe essere così. Perché l'interesse nazionale comunque è legato a che cosa? Al funzionamento di una comunità politica nel tempo e nello spazio. Alla sua continuità da questo punto di vista. Quindi l'interesse nazionale sì ha una sua componente soggettiva che dipende anche dal fatto, dal colore di chi governa. Insomma, Trump non è Biden, il presidente Meloni non è il presidente Conte e così via. Però l'interesse nazionale ha una sua componente oggettiva che è misurabile, che è quantificabile. Una componente oggettiva che comunque si compone di tre parametri. quello politico innanzitutto, che è legato all'integrità nel tempo della comunità politica e alla sua capacità di assolvere all'obbligazione politica fondativa, che è quella di comando-obbedienza sostanzialmente. Poi c'è un parametro economico, che è comunque legato a dei fattori che sono misurabili. Disponi di risorse e materie prime? Sì, no, quanto. È legato alle forniture, ai flussi, che in qualche modo garantiscono che cosa? La capacità di quella stessa comunità politica di soddisfare dei bisogni materiali della cittadinanza. Bisogni che, peraltro, negli ultimi vent'anni sono sempre più strutturati per un numero sempre maggiore di persone e di comunità. Quindi questi... e poi c'è un parametro strategico, che è legato a che cosa? Alla posizione, al condizionamento geografico, geopolitico, su quella stessa comunità politica. Il fatto che noi siamo nel Mediterraneo ci dà un'informazione su quello che dovrebbe essere il nostro interesse nazionale. Ripeto, a prescindere che qui a fianco a me ci sia la Presidente Craxi piuttosto che il Senatore del Rio. e questi sono componenti strutturali, che sono fisse, che non sono variabili, che non sono, come dire, interpretabili e che comunque cambiano solo nel lungo periodo, possono cambiare solo nel lungo periodo. Chiaro che queste considerazioni poi rimandano, no? Vediamo che cos'è l'interesse nazionale per l'Italia. Interesse nazionale, allora, se guardiamo questi tre parametri, quello politico e securitario, il legame bilaterale con gli Stati Uniti, che è l'essenza stessa della nostra appartenenza alla Nato. Perché il cerchio concentrico del rapporto bilaterale con gli USA è appunto un qualcosa che è addirittura più vicino rispetto al cerchio più ampio della Nato, ed è la garanzia stessa della Nato. Senza gli Stati Uniti la Nato non esisterebbe, perché sarebbe un'alleanza tra pari. Le alleanze tra pari non funzionano. Qui c'è un'enorme letteratura accademica che ci dice che le alleanze strutturate tra pari non funzionano o funzionano male. Il parametro economico, il nostro legame indissolubile con l'Europa. Qui si può essere, come dire, critici rispetto a certi atteggiamenti della costruzione, a certe sclerotizzazioni burocratiche della Unione Europea. Però è un dato empirico di fatto. Il nostro destino come paese, come capacità di soddisfare certi bisogni, è legato all'Europa. Francia e Germania, se vado a mente, se non vado errato, oggi rendono conto per circa 280 miliardi del nostro interscambio, quasi 300. Questi sono dati empirici, questa è la strutturalità dell'interesse nazionale. E poi, come diceva correttamente prima il dottor Marlone, la nostra posizione, quindi la centralità del Mediterraneo, del Mediterraneo allargato, il fatto che noi non abbiamo risorse, non abbiamo materie prime, lo dobbiamo prendere dall'estero. Quindi le condotte che passano attraverso il Mediterraneo, le navi che ci portano il gas, il GNL dagli Stati Uniti piuttosto che dal Qatar, e così via. I nostri principali fornitori, tolti gli Stati Uniti e i paesi Norvegia e Olanda, gravitano sostanzialmente nel cosiddetto Mediterraneo allargato. Questa era la prima premessa che volevo fare. La seconda premessa che vorrei fare, che mi piacerebbe fare, che vorrei discutere con voi è, sempre per rispondere alla domanda di prima, ma a cosa servono le missioni internazionali? Credo che su questo in Italia sia mancato un dibattito. Io qui mi piace citare il mio amico professor Fabrizio Coticchia, che in ambito accademico si occupa da oltre dieci anni di questi argomenti. Le lezioni apprese. Quali sono i risultati che noi abbiamo avuto da venti anni di esposizione in Afghanistan, per esempio? Da un punto di vista, ripeto, del nostro interesse nazionale, quanto ci abbiamo guadagnato? Perché lo abbiamo fatto? Certo, c'è l'obbligo d'alleanza, quindi la NATO era in Afghanistan, ci stiamo anche noi. Però la domanda, quando si fa analisi delle lezioni apprese, la domanda da fare è erano troppi 4.500 uomini per oltre dieci anni lì, oppure l'obbligo di alleanza lo si poteva assolvere con la metà degli uomini expendendo la metà di quello che abbiamo speso, di soldi del contribuente? Queste credo che siano domande a livello analitico e che in sede di esame delle lezioni apprese ci si dovrebbe porre e si dovrebbe anche provare a strutturare una risposta in questo senso. Faccio un altro esempio, molte volte la missione in Libano, la nostra missione in Libano nell'ambito di Unifil è stata criticata dicendo che c'aveva il fucilino a tappi, che non poteva fare nulla, che non si usciva dalle basi, che il mandato è quello che era quindi sostanzialmente la missione in Libano non serviva a nulla, questa è un po' una certa narrazione che io ho colto in questi anni. Il problema è, ce lo siamo mai chiesto e abbiamo mai provato a riflettere sul fatto che quella era una missione un quadrante strategico per il nostro interesse nazionale sul Levante, dove comunque noi abbiamo rilevanti interessi in termini economici. Ce lo siamo mai chiesto che quella stessa missione lì comunque ha garantito un modo affinché due attori rilevanti dell'area, Hezbollah e Israele in qualche misura commisurassero le loro aspettative, avessero un terzo con il quale eventualmente confrontarsi. Ce lo siamo mai chiesto se quella stessa missione ha garantito la sicurezza del fianco nord di Israele per anni? E comunque lo ha fatto, perché questo contesto è cambiato soltanto a fronte di un evento che non è stato normale, perché quello del 7 ottobre non è stato un evento normale. Prendiamo per esempio l'Iraq, noi abbiamo una lunga storia di presenza in Iraq, prima nell'ambito della missione Iraqi Freedom, poi che era una missione comunque bilaterale a seguito dell'invasione dell'Iraq del 2003, poi più o meno è proseguita con la missione anti-Daesh, con la formazione del comparto locale e quant'altro. Ecco, ci è stato utile essere impegnati così in profondità e a lungo in Iraq, anche nella prima fase, quella dopo l'invasione del 2003, quella più contestata e criticata. Comunque, se guardiamo ancora una volta gli interessi, oggi l'Iraq è uno dei nostri principali fornitori di petrolio, se non vado errato, a volte il primo, a volte il secondo, il terzo, quindi un paese importante per il nostro interesse. E quindi cerchiamo di capire effettivamente qual è stato il ritorno di questo investimento, ma cerchiamo di capirlo in termini materiali. È stata importante la nostra presenza in Iraq dopo il 2003, fu una presenza anche molto contestata, vi ricorderete. Però ci sono stati dei ritorni, forse, nell'ambito della nostra relazione bilaterale con gli Stati Uniti. Io mi ricordo all'epoca che si concluse un'operazione industriale non da poco, l'acquisizione da parte di Leonardo, allora fin meccanica, di DRS, che maturò per l'appunto in quel contesto politico lì. E non fu una cosa banale, perché è un'azienda italiana che va ad acquistare un prime americano, che è una cosa che non capita tutti i giorni, il prime della difesa americana. E questo ragionamento, secondo me, andrebbe fatto anche per l'oggi. Noi abbiamo una significativa presenza in Est Europa articolata sul dispositivo dell'air policing e sui vari dispositivi terrestri in Bulgaria, Lettonia, eccetera, eccetera. Siamo, se non vado errato, intorno ai 3.000 uomini, più o meno. Sono troppi o troppo pochi? Si potrebbe avere un bilanciamento migliore rispetto a quello che richiamava prima il dottor Marrone, ovvero tra il fianco Est e il fianco Sud. È auspicabile. Alla luce di due fattori, soprattutto, il primo è il rischio da Sud. Il fatto che buona parte delle minacce con le quali noi abbiamo a che fare è tolta la minaccia russa, che comunque ha un riverbero nel Sud, perché la presenza russa nel Mediterraneo ormai è una costante, da questo punto di vista, da dieci anni, ed è comunque aumentata negli ultimi due, tre anni. E tutto il corredo di terrorismo, immigrazione illegale, eccetera, eccetera. Non so, non so, non so. Sottovalutiamo i Balcani, giustamente, presidente, eccetera, eccetera. Io credo su questo si debba e si possa fare anche una riflessione. Insomma, si parla di snellimento dei processi di creatività, tra virgolette, anche delle politiche estere. Pensiamo magari anche a una nostra presenza all'estero nel Mediterraneo allergato, diciamo, più distribuita e più modulare, cioè meno contingenti tradizionali, statici e basati su grandi concentrazioni. Ma proviamo a pensare a quella che gli americani chiamano le standing forces, cioè piccoli contingenti, però altamente capacitivi, in grado di ridispiegarsi in outpost avanzati in una serie di paesi strategici, in grado di garantire quella capacità di risposta di cui si parlava prima, di prima istanza, ma anche di garantire una certa deterrenza, anche perché il tempo della classica missione di stabilizzazione è finito per una ragione molto semplice, non solo perché ci sono i russi oggi e magari domani ci sono i cinesi, perché oggi l'ultimo guerrigliero ha comunque il missile antinave, ti fa l'attacco hacker, sa usare strumenti di guerra elettronica. L'abbiamo visto e purtroppo l'hanno pagato duramente gli israeliani sulla loro pelle il 7 ottobre, che quelli con le ciabatte ai piedi, scusate il termine, senatori, quelli con le ciabatte ai piedi in realtà hanno fatto l'attacco hacker, hanno disturbato le comunicazioni, hanno utilizzato i droni e quant'altro, in maniera, come noi si dice oggi, come dicono oggi le nostre forze armate, in maniera multidominio. Quindi questi signori per anni sono stati sottoterra a Gaza a studiarsi le operazioni militari e hanno utilizzato un'azione multidominio per colpire Israele il 7 ottobre e prenderlo di sorpresa come l'ha preso. Quindi c'è una necessità anche da parte nostra non solo di snellire i processi e di velocizzare i processi, ma anche di ripensare a quella che è la nostra architettura di sicurezza e ripensarlo anche nell'ambito di rapporti bilaterali che, a mio avviso, soprattutto nel Mediterraneo allargato, come giustamente diceva prima il dottor Marrone, al quale mi lega un'amicizia di lunga data, rapporti bilaterali. E poi questo aspetto della presenza modulare all'estero rimanda anche a una dei fulcri di questo disegno di legge oggetto dell'audizione di oggi, oggetto della vostra discussione, riguardante appunto le forze di alta prontezza e di altissima prontezza. E ora chiudo proprio sul disegno di legge, gli ultimi tre minuti. Il concetto dell'interoperabilità che è stato richiamato prima tra missioni che insistono nella stessa area geografica, è chiaro che questo ci garantisce più flessibilità, ci garantisce più opzioni di risposta. Ed è bene che nel mondo di oggi, con lo scenario di oggi, meno siamo ingessati, meglio è. Meno 7 ottobre possono capitare. Molto bene anche il discorso della semplificazione procedurale per il riparto delle risorse, che prima costituiva comunque un oggettivo problema. Capitava sistematicamente, giusto per fare un esempio, che in delle missioni all'estero progetti molto importanti, per esempio nell'ambito del CIMIC, la Civil Military Cooperation, a un certo punto non avessero i fondi per essere implementati. E il CIMIC è uno strumento fondamentale delle nostre missioni, non solo per una questione umanitaria, ma anche per una questione di consenso intorno alla nostra presenza all'estero, che è fondamentale però poi per il ritorno che ha in termini di sicurezza, ma anche per una capacità informativa, per una capacità a livello di intelligence, evidentemente dei nostri contingenti in teatro. E poi c'è il discorso delle forze di alta e altissima prontezza. Questo è un aspetto molto importante, perché la disponibilità di queste forze poi ci consente di dare seguito al fatto di dire sì, adesso siamo più reattivi, sì, adesso siamo più snelli. Ora però ci dobbiamo chiedere, chiaramente questa è una questione che riguarda soprattutto lo Stato Maggiore, ma mi fa piacere condividerla qua con voi, come dovranno essere queste forze, perché noi ad oggi alcune capacità ci mancano. Io credo che una componente fondamentale da questo punto di vista riguarda i droni, noi paghiamo, noi Italia, Europa, noi paghiamo un ritardo sul settore dei droni che è purtroppo enorme, paghiamo Dazio da questo punto di vista tutti i giorni. E quando parlo di disponibilità di droni io penso a quello che sta succedendo adesso in Ucraina, in questo momento in cui si sta assistendo a una resistenza da parte delle forze di Kiev, che se non ci fossero i droni non sarebbe com'è. Oggi se gli ucraini non avessero la enorme quantità degli droni che hanno, di tutti i tipi, probabilmente saremo qui a raccontare un'altra storia. Non ci sarebbe neanche da, come dire, il problema, vediamo quando arrivano, se si sbloccano i fondi americani, perché probabilmente i russi sarebbero a Sloviansk e a Kramatorsk già da un po'. Gli ucraini sono stati in grado di rallentare l'iniziativa russa, sono stati in grado di rallentare l'offensiva russa grazie a questa enorme disponibilità di droni. Su questo credo che noi ci si debba pensare a forze armate in cui il drone è sempre più pervasivo in tutti i settori, da quello dell'osservazione a quello della guerra elettronica, a quello dell'attacco, cioè nella disponibilità di, diciamolo, come si chiamano, di droni kamikaze o droni suicidi, che è una capacità oggi che noi sostanzialmente non abbiamo, ma è una capacità che se vogliamo avere delle forze ad alta prontezza, e ad altissima prontezza che danno seguito al dettato normativo del disegno di legge, noi abbiamo la necessità di darci questa capacità. La guerra elettronica, la disponibilità di missili, per esempio mi viene in mente al missile antinave Marte R o al missile polivalente Brimstone da installare su veicoli leggeri, per avere una capacità altamente letale ed altamente dispiegabile, è un nostro pallino quella di installare il Brimstone o il Marte R sul veicolo lince. Oppure la disponibilità, e questo è stato lungimirante da parte dell'esercito, l'acquisizione dei lanciarazzi IMARS, la disponibilità appunto dei lanciarazzi IMARS per essere dispiegati sugli aerei da carico in modalità, come si dice in gergo, shoot and scoot, cioè spara e scappa, perché la forza ad alta prontezza dovrebbe avere certi tipi di caratteristiche. E concludo, perché è necessario questo? È necessario tutto questo perché, come abbiamo visto il 7 ottobre, il nostro avversario, anche se non è il russo, anche se non è il cinese o chi per lui, cioè anche se non è un avversario convenzionale, è un avversario comunque sempre più capace da un punto di vista militare, sempre più sofisticato, che ha approfittato di quello straordinario fenomeno degli ultimi dieci anni che è della diffusione orizzontale delle tecnologie. Quindi dai droni alla guerra elettronica, al cyber e così via. Abbiamo visto, lo dicevo prima, il danno che è riuscita a fare Hamas il 7 ottobre, danno che poi ha triggerato quell'eccesso di reazione di cui tutti i giorni parliamo a proposito di Israele, ma che è garanzia stessa dell'esistenza dello Stato ebraico ed è il fulcro della dottrina militare dello Stato ebraico. Insomma, ricordirete quello che diceva il generale Moshe Dayan, in questo senso, Israele deve essere percepito dall'avversario come un cane pazzo, troppo pericoloso per essere disturbato dal nemico. E quando viene disturbato bisogna fare in modo che il nemico pensi prima possibile che quel cane lì è tornato pazzo e non un cane docile come il 7 ottobre. Per cui alla luce di tutto questo, bene l'usnellimento procedurale, bene l'accelerazione, la flessibilità e la direzione nella quale va questo disegno di legge, però facciamo anche una riflessione più ampia sulle nostre missioni. chiediamoci se il disegno di legge non dovesse anche magari incidere sulla parte iniziale della 145, quando si parla delle fatti specie di intervento all'estero, si parla di eccezionale intervento umanitario, se non vado errato. Ecco, io ci aggiungerei anche eccezionale intervento per la tutela di un interesse nazionale, quando questo interesse nazionale è gravemente minacciato. Grazie. Grazie a lei, dottor Batacchi, grazie dottor Marrone, grazie per aver capito e inteso bene lo spirito della legge, che è uno spirito di rendere più flessibile e efficace la decisione da parte del Parlamento dell'invio di missioni militari o della modifica di missioni militari in corso. Grazie anche per i vostri spunti di riflessione, che mi permetto di dire ci segnalano un buco a monte. Lo faccio, l'ho fatto diverse volte, lo faccio anche oggi. Il nostro è l'unico dei grandi paesi del mondo che non ha un piano strategico di difesa e di sicurezza. Un piano strategico di difesa e di sicurezza vuol dire avere una strategia che coinvolge l'industria di difesa, le missioni internazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Mi auguro che in questa legislazione prima o poi ci sia modo di mettervi mano, soprattutto coinvolgendo non solo tutti i ministeri competenti, il Parlamento, ma anche tutti i gangli della società che debbano essere coinvolti. Grazie. Il senatore Marton ha chiesto la parola, ne ha facoltà. Grazie ai relatori. Io credo di essere qui in questa sala l'unico che era presente quando è stata predisposta quella legge 145 ed erano tempi ben diversi e quella legge nasce collocata in quei tempi. Quindi ha senso ora cambiarla perché i tempi sono cambiati e soprattutto il contesto è cambiato. Io ero molto orgoglioso di quella legge anche perché era susseguente a un periodo in cui si andava per decreti. Quindi per noi è stato un salto incredibile. Detto questo, il dottor Batacchi ha parlato di deterrenza. Ancora senso? Cioè, la deterrenza rispetto a quale interlocutore? Abbiamo visto che, ad esempio, nei confronti russi mi pare che serva ben poco la deterrenza. A quali attori ci rivolgiamo nel momento in cui noi parliamo di deterrenza e di azioni propedeutiche appunto a far capire che dall'altra parte qualsiasi attore ci sia che siano uti, che siano, mettete il nome che volete, deterrenza in che modo? La seconda domanda per il dottor Marrone. Lei ha parlato di complementarietà tra bilateralismo insieme al Mediterraneo e l'Europa. E anche qui ha senso. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo un'Europa che è fondamentalmente divisa a interessi nazionali che vanno oltre l'Unione Europea, in più ambiti, in più contesti, in più scenari, ci sono interessi che sono divergenti, non possiamo far finta di non vederli, e parliamo di bilateralismo complementare. Cioè, secondo me le due cose non riescono a stare insieme. Noi abbiamo la Francia che sappiamo bene come si pone in ogni scenario. Abbiamo visto Macron che parla di uomini in Ucraina, cioè va per la propria strada, e nel fianco, diciamo, sud, la Francia è stata praticamente buttata fuori da tutti i paesi africani. Almeno questo è quello che io sto leggendo. E noi andiamo invece in Africa a inseguire i nostri interessi nazionali, ma scollegati dall'Unione Europea. Che se ne dica siamo completamente scollegati. Protere il processo decisionale. Bene, l'avete spiegato voi bene che va, diciamo, modificato il processo decisionale per stare al passo dei tempi e per avere la possibilità di intervenire rapidamente. Anche lì, rispetto appunto a quale interesse nazionale? Interesse nazionale confliggente rispetto a un interesse nazionale altrui, legaci Francia, Germania e altri, o interesse nazionale che, appunto, complementare un interesse europeo più ampio, in modo tale da avere un ombrello, diciamo, più ampio come Unione Europea e un insieme di interessi nazionali. Mancato dibattito sulle missioni internazionali, io aggiungerei anche sul sistema industriale difesa. Noi facciamo missioni internazionali con le nostre forze armate, che sono dotate di strumentazioni di vario tipo. Ne parlavo prima con il senatore Del Rio e con il senatore Alfieri, sull'F35. Il programma F35, faccio un azzardo di collegamento, il programma F35, inserito in un contesto di missioni internazionali, ha avuto senso, ha avuto risultati. Seguo lei, dottor Batacchi. A me sembra che non ne abbia avuti e mi sembra che, in realtà, il G-CAP nasce in un modo molto diverso e ha avuto, secondo me, un approccio decisamente migliore, il G-CAP rispetto all'F35, che io, già dal 2013, mi sono sentito subire un programma di quel tipo che ancora adesso reputo veramente fuori dal mondo. Detto questo, è una mia idea personale. Quindi, troppi uomini, io troppo pochi. È una domanda che ho fatto qualche giorno fa al Capo di Stato Maggiore della Difesa. Proprio in virtù del ragionamento che lei, che la testa è fatto, ho fatto lo stesso ragionamento, ma quanti uomini servono per seguire tutto quello che attualmente sta succedendo nel mondo? E ovviamente il nostro Gapo di Stato Maggiore, ben sveglio, chiaramente ha approfittato subito del fatto di dire no, no, io ne chiederò finché muoio 10.000 finché non mi buttano fuori di uomini. È evidente, è evidente che siano pochi. Ma qual è il limite? Cioè, quello che lei pone è notevole come interrogativo. Ci vuole un dibattito serio, lungo, ma credo che non si concludano i prossimi 10 anni un dibattito del genere. E con questo chiudo e mi riservo di mettere altri temi sul tavolo. Grazie. Senatore Marton, qualche altro collega che desidera intervenire? Senatore Del Rio, prego. Sì, anch'io ringrazio i relatori per le interessanti appunto comunicazioni che ci hanno fatto e intanto ha noto con grande piacere il presidente lo metta verbale che il senatore Marton con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue ha parlato bene di una legge fatta dal nostro governo nel 2016 della legge quadro 145 e quindi adesso mette a verbale che non era d'accordissimo però prima ha detto bene che è stato un passo avanti e in effetti fu un passo avanti importante. Ecco, mi pare che tutte e due le relazioni hanno per fortuna messo in evidenza che più che gli aspetti tecnici della modifica della 145 bisognerebbe ragionare in termini più politici perché è difficile dare un giudizio diciamo serio sul ritorno che abbiamo da queste missioni perché di fronte a questo enorme volume che abbiamo davanti e a questa spesa abbastanza consistente che abbiamo davanti la prima domanda che tutti ci facciamo è a cosa serve? Ora io premetto che non sono tra coloro che pensa che tutto possa essere giudicato in termini di ritorno economico mi spiego? Cioè non è che serve solo quello che economicamente rende penso che per esempio sia un investimento straordinariamente efficace fare l'università nel Mediterraneo come propone il professor Prodi da tempo cioè università in cui l'Europa l'Italia promuove università del Mediterraneo è un investimento che non rende ma che rende moltissimo da un punto di vista così come credo che siccome noi siamo politici e dovremmo provare ogni tanto a ragionare di politica credo anche che dobbiamo tutti dirci che le missioni internazionali stanno dentro l'ambito dell'articolo 11 della Costituzione ovviamente cioè in un ambito in cui i costituenti hanno detto che l'Italia ripudia la guerra come strumento per la risoluzione dei conflitti che nello stesso tempo però concede concessioni di sovranità cessioni di sovranità per appunto garantire la pace e la sicurezza quindi il concetto che avete posto entrambi degli investimenti del ritorno rispetto all'interesse nazionale è un concetto che ci dovrebbe interessare perché io credo che queste nostre missioni pur non essendo appunto un fanatico dell'esaltazione dello strumento militare penso che queste missioni abbiano avuto e abbiano un senso ma solamente se gli diamo un significato politico molto più preciso e se avviano una discussione politica molto più precisa molto più adeguata ai tempi e anche io voglio sottolineare due questioni il primo è che questa bilateralità che era stata secondo me sottolineata dal dottor Marrone nella sua relazione ma che anche il dottor Batacchi ha messo in evidenza questo tema della bilateralità rispetto al coordinamento con una politica estera e di difesa dell'Europa cioè oggi il tema vero politico è questo se noi siamo stiamo producendo effettivamente un investimento adeguato nel momento in cui privilegiamo la bilateralità e non privilegiamo invece un protagonismo di una politica estera e di difesa adeguata peraltro c'è lo strumento il Pesco 4 ci sarebbe anche lo strumento per avere forze militari di intervento coordinate Germania Spagna Italia Francia perché il trattato di Gisboni è stato abbandonato su questo punto perché è stato abbandonato questa è la discussione politica che dovrebbe spingerci e la seconda questione secondo me che non è adeguatamente diciamo così approfondita in questa in queste relazioni è il fatto che appunto non tutti gli investimenti possono essere messi sullo stesso piano cioè è chiaro che l'investimento nel Mediterraneo nel fronte europeo nel fronte est europeo hanno un significato un investimento in Afghanistan ha un altro significato non c'è dubbio e quindi insomma su questo punto bisognerebbe fare una riflessione più approfondita perché non è che perché siamo stati abbastanza bravi io vorrei poi sottolineare il fatto che gli italiani quante volte questa è una domanda che come sono anziano ho perso memoria ma quante volte abbiamo sparato noi un colpo negli ultimi dopo la seconda guerra mondiale vabbè dentro contesti appunto di un certo tipo dentro contesti di emissioni internazionali quindi ancora una volta che la dice lunga sul tema di come investire bilateralmente su alcune questioni scusate perché questo è il punto cioè noi ormai ci muoviamo giustamente secondo me io promuovo questa cosa dentro a un contesto o europeo o internazionale o della Nato e quindi cioè bisogna abbandonare l'idea di una sovranità militare italiana l'ha detto anche il capo di Stato Maggiore l'ultima volta di una sovranità della difesa dell'industria della difesa sono concetti obsoleti rispetto al ragionamento che abbiamo poi è chiaro che tutti noi difendiamo l'industria italiana che discorso ma pensare che ci sia lo ha detto il capo di Stato Maggiore ripeto che appunto gli interessi nazionali si difendano in un contesto in cui ti chiudi nel tuo guscio e fai tante missioni piccole in giro per il mondo non è secondo me adeguato non ha non ha l'orizzonte strategico sufficiente e adeguato e quindi le lezioni apprese dovrebbero essere analizzate in maniera più puntuale anche questo questo il ministro Crosetto devo dire onestamente ci ha promesso che cercherà di no presidente di presentare una relazione molto più analitica e più politica tra virgolette e in anticipo rispetto a perché noi oggettivamente oggi noi approviamo credo senza grande imbarazzo queste missioni pur sottolineando il fatto che purtroppo come c'è stato sottolineato le altre associazioni la parte civile la parte diciamo è stata ulteriormente penalizzata e questo è un male perché io vorrei ricordare nel caso se lo fossimo dimenticato che forse la più grande operazione di pace che ha avanzato in Europa è stato l'allargamento che è stato un allargamento politico perché tutto l'est è stato incluso senza sparare un colpo ed è stato stabilizzato senza sparare un colpo oggi parliamo di Europa perché c'è stata un'iniziativa politica non un'iniziativa militare ecco questo lo vorrei sottolineare che rimanga agli atti quindi io penso che questo ragionamento sia quello che anche le relazioni di oggi ci inducono a fare cioè quello di fare un ragionamento più strategico e più selettivo anche più selettivo non è con la retorica del siamo bravi un po' dappertutto che possiamo andare dappertutto perché non è vero che abbiamo gli stessi interessi in l'Indo-Pacifico come nel Mediterraneo preferirei un esercito italiano molto più capace e pronto con un esercito appunto a quattro all'interno di obiettivi di politica estera chiari perché poi bisogna capire quali sono gli obiettivi di politica estera che lo strumento di difesa per sé per me non esiste scollegato da obiettivi di politica estera perché altrimenti è una cosa che si autoalimente come la guerra delle macchine ahimè lei mi ha fatto venire in mente la guerra delle macchine perché poi alla fine stiamo andando verso questa cosa e quindi il problema è la definizione di obiettivi di politica estera comune però non solamente nazionale perché altrimenti il nostro la nostra irrilevanza da punto di vista sostanziale sarà sempre maggiore all'interno di un quadro come quello che abbiamo davanti e che è così rapidamente mutato e che è così rapidamente imprevedibile come veniva sottolineato giustamente grazie senatore del rio assolutamente sì chi di voi vuole cominciare a rispondere dottor Marrone prego sì segnalo che abbiamo un quarto d'ora ancora perché poi grazie molto per grazie molto per gli interventi molto molto stimolanti allora secondo me gli interessi nazionali italiani e quelli europei sono parzialmente sorrapposti e parzialmente collegati o scollegati se vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto diciamo non si sorrappongono del tutto ma sono due cerchi non concentrici parzialmente sorrapposti allora se volessi diciamo semplificare un messaggio politico credo che l'Italia dovrebbe andare in via bilaterale quando necessario e in via UE quando possibile quindi in via bilaterale quando necessario perché diciamo garantisce una maggiore aderenza alla visione degli interessi nazionali e a sua volta può essere parte di una visione regionale più ampia come potrebbe essere il piano Mattei ma via UE ogni volta è possibile perché la missione Aspides comunque oggi vede una fregata italiana una fregata francese una tedesca una belga un quartiere regionale in Grecia e quindi una condivisione degli oneri dei costi e dei rischi che se non ci fosse non so se l'Italia riuscirebbe a spiegare a dispiegare quattro fregate oggi nel Mar Rosso non penso quindi in questo caso il bilateralismo non era alla portata italiana l'Unione Europea è riuscire a dare una circosta efficace e utile quindi diciamo con molta dose di pragmatismo e anche di guardare in modo selettivo caso per caso ci possono essere delle occasioni circostanze bilaterali circostanze in cui due tre o quattro paesi europei a geometria variabile e possibilmente il gruppo dei quattro maggiori quindi Germania Francia Italia Spagna in ordine alfabetico anzi prima Francia che facciano un gruppo di testa secondo me non è mutualmente esclusivo cioè non è dicotomico bianco e nero bilaterale o europeo però certamente ci vuole molta strategia politica di lungo periodo per avere le linee guida e molta tempestività politica di vedere caso per caso qual è l'opzione migliore se quella bilaterale o quella europea e quindi l'azione bilaterale sicuramente è meglio dell'inazione e può essere un mattoncino di una costruzione più ampia sul ritorno della missione qui vengo alla seconda domanda un po' l'accennava il collega Biro Batacchi è difficile dimostrarlo però è molto probabile che se non ci fosse stata Unifil in Libano o Keifor in Kosovo oggi avremmo altre due guerre non due situazioni relativamente stabili come in Kosovo e in Libano quindi mantenimento stabilità è un ritorno tangibile o intangibile alle missioni il contrasto al terrorismo anche lì è difficile dimostrare però anche piccoli contingenti militari in tanti paesi africani che stabiliscono delle liaison dei dialoghi dei rapporti o interlocutori locali sono un'antenna che in chiave di intelligence di contrasto al terrorismo la materia non è discussa pubblicamente però immagino sia rilevante c'è un discorso di pilastro bilaterale che faceva il collega Batacchi con l'Iraq con tanti altri stati e c'è un discorso di investimento io direi più che di contributo a NATO-UE perché contributo sembra una cosa che si dà ed è a perdere e invece l'investimento italiano nella difesa europea o in ambito NATO dà un ritorno perché la NATO è quella cornice di deterrenza che non ha funzionato in Ucraina perché l'Ucraina non era oggetto di deterrenza NATO perché non è un paese membro della NATO ma funziona nel non far allargare il conflitto ucraino alla Polonia ai paesi baltici e al resto dei paesi NATO quindi secondo me diciamo questa polizia di assicurazione NATO rispetto alla Russia e anche rispetto a rivalità intraeuropee vale l'investimento che si fa col premio assicurativo e qualcosa di simile ma non uguale si può dire per l'Unione Europea in cui l'investimento nella difesa europea è un pilastro di un'integrazione politica più ampia e quindi sostiene altre dimensioni monetarie economica o di stato di diritto e porta anche all'Unione Europea che può agire per stabilizzare il vicinato e qui parlando di selettività e di priorità direi che sta emergendo la divisione del lavoro la NATO fa difesa collettiva degli stati membri non dell'Ucraina degli stati membri rispetto alla Russia e l'Unione Europea può fare più stabilizzazione del vicinato a sud e chiudo dicendo che appunto in ottima di selettività e di priorità le due priorità sullo stesso piano sono Mediterraneo allargato in via bilaterale o UE deterrenza collettiva est in via NATO e invece in subordine l'Indo Pacifico è stato menzionato quello può essere un po' indicato già in alcuni documenti governativi come un punto di esercitazioni di dialogo di scambi militari che portano anche lì a diciamo una mutua comprensione a costruzioni di network che può avvenire bene in futuro ma con una presenza numerica molto più ridotta di quella in Mediterraneo o dell'Europa e soprattutto una presenza principalmente navale o aeronavale e non terrestre mi fermo qui Pietro grazie dottor Battacchi sì allora sul discorso ora col senatore Marton insomma ci diamo appuntamento un giorno e sistemiamo le cose come si dovrebbero sistemare però stringendo no no ci mancherebbe anzi guardi lei poi tra l'altro sul discorso dell'F35 con me sfonda una porta aperta ora e accenno un po' la risposta allora sul discorso della deterrenza io credo che una delle ragioni che hanno portato la Russia ad aggredire un paese sovrano che le stava accanto è anche quella della percezione di un deterrente che si era indebolito per tutta una serie di ragioni a cominciare dalla sciagurata fuga da Kabul che Dio ce ne scampi da quell'immagine lì che ha fatto tantissimo male all'America e all'Occidente ovviamente alla sceneggiata del gennaio dell'anno prima con l'assalto al congresso a tutta una serie di come si dice in gergo di segnali che i russi hanno percepito hanno percepito a un certo punto quando attori come quello percepiscono debolezza nell'avversario come dire hanno una prateria davanti perché comunque i russi insomma ormai li conosciamo sono molto sensibili al ragionamento della forza sia che la si usi che in maniera più conveniente non la si usi poi il deterrente serve perché ci sono anche una serie di attori regionali che come dire di un certo concern come si dice in inglese ecco io non cito nessuno e rispetto a quegli attori uno strumento militare credibile proiettabile che sia appunto deterrente è assai utile generalmente si dice contro i terroristi la deterrenza non serve ni ni perché delle volte capita che terroristi o gruppi irregolari a un certo punto si facciano stato si facciano territorio si facciano pezzi di stato quando io sento dire che gli uti sono un gruppo terroristico mi si drizzano i capelli che non ho gli uti sono uno stato gestiscono uno stato controllano un pezzo di stato hanno una capacità militare che è quella di uno stato e così via e quindi rispetto a questo ragionamento la deterrenza ha una logica voi mi direte ma loro continuano comunque a attaccare le navi sì ma lo fanno molto meno di prima e questo comunque è un dato empirico importante sull'F35 l'operazione F35 Presidente buongiorno l'operazione F35 diciamo che da un punto di vista industriale per ciò che concerne l'industria nazionale effettivamente abbiamo fatto un po' un sacrificio ma è innegabile che il Gcap sia meglio piuttosto che l'Eurofighter abbia come dire un impatto sull'industria nazionale migliore siamo tutti d'accordo credo però noi dobbiamo anche valutare quello che è il ritorno operativo di avere a disposizione una macchina di quinta generazione come l'F35 acquisita in un momento nel quale non c'era nulla che noi potevamo acquisire con quelle capacità lì cioè non c'era nulla di quinta generazione primo aspetto l'F35 poi ti dà una serie di capacità in termini anche di flessibilità che nessun'altra macchina ti può dare in quei termini in quei termini lì l'F35 poi ti inserisce in un sistema di come dire lasciatemi dire di sostenibilità che è incomparabile perché noi si sta parlando di scala di migliaia di aerei di disponibilità potenzialmente illimitata di pezzi di ricambio si parla comunque di uno strumento che teoricamente e nella pratica è sostenibile da qui ai prossimi 50 anni anche perché l'F35 ce l'hanno tutti e un motivo per il quale ce l'hanno tutti ci sarà non solo perché gli americani sono bravi a venderlo ma perché comunque ripeto l'F35 significa una partnership chiedo scusa senatore era proprio il tipo di partnership ha senso partecipare a un programma stando non nel livello di condivisione massimo e porsi a un livello inferiore per non avere i ritorni ma come no veniamo da camera ieri la commissione ieri io ci sono stato quattro anni fa ma al di là di quello tutta la parte software non è stata condivisa allora guardate credo di potervi dare la risposta ultimativa su questo definitiva su questo l'Italia ha i suoi laboratori di programmazione delle librerie di guerra elettronica sull'F35 siamo uno dei pochi paesi ad avere questa capacità e questo che cosa significa chiedo scusa con la Norvegia esatto e questo significa che comunque abbiamo una come dire capacità operativa su quel tipo di macchina lì che altri non hanno oggi se ci sono dei piloti collaudatori di Leonardo che stanno già lavorando al Gcap che hanno un'esperienza su una macchina di quinta generazione noi lo dobbiamo comunque all'F35 perché la quinta generazione è la quinta generazione e se tu non hai quel tipo di esperienza lì poi dopo non ti puoi approcciare al Gcap non è che puoi passare e io gli auguro tanta fortuna da questo punto di vista ai francesi piuttosto che ai tedeschi ma passare dalla quarta alla sesta generazione è un pochino complicato invece sul discorso del bilaterale versus multilaterale ha già abbondantemente risposto il dottor Marrone mi viene da fare un esempio attuale è un esempio storico l'esempio attuale noi abbiamo il caso della Turchia che sta dentro la Nato e non le passa neanche per l'anticamera del cervello di uscirne però alla sua politica tra virgolette estera e di sicurezza autonoma ne abbiamo parlato tante volte le due cose non escludano l'altra noi storicamente abbiamo avuto l'esempio di Tito se ne stava tranquillamente a est ma prendeva molto felicemente da ovest e questo non è come dire tenere il piede in due staff questo significa tenere il piede in due staff ma significa delle volte anche godere dei benefici che queste due staff ti possono dare l'ultima cosa e chiudo sul discorso sempre dell'integrazione europea e quant'altro se tu non hai delle capacità che hai a livello nazionale in termini industriali e ti vai a sedere al tavolo con Dassault piuttosto che con Airbus piuttosto che con chi per loro insomma diventa difficile dopo fare l'integrazione e la cooperazione europea tu la cooperazione europea la fai se hai delle expertise se hai delle capacità da come dire da scambiare e da barattare tra virgolette ecco chiedo scusa grazie grazie dottor Batacchi bisogna fare un altro supplemento bisogna fare un supplemento dobbiamo sì dobbiamo prima o poi anche questo provvedimento licenziarlo qualche altro collega intende intervenire quindi io ringrazierei i nostri ospiti e dichiarerei chiusa per oggi l'audizione è stata molto interessante ve ne ringraziamo parlerete in separata sede con il senatore Marton che a cui manca un ultimo pezzetto